con l'accento sbagliato in inglese allora, la foto non è sbagliata è storto la prima cosa da dire ha un'inclinazione tra il suo asse e il piano dell'eclittica che è 97 gradi anche di un pochettino di più quindi immaginate questa foto qua che in realtà penso che sia un disegnito ma tanto non ci sono foto interessanti una pallina blu nel cielo con una massa di 14 volte poi dalla terra, quindi quasi diceva 26 kg ma ho un raggio di solo 4 volte la terra quindi sui 25.000 km quindi immaginate in questa foto qua il polo non esiste, è noto però il polo qua è rivolto al sole e il polo sud è rivolto allo spazio quindi tanto che il periodo di rivoluzione cioè l'anno di urano dura 84 anni per metà per quasi metà il polo nord sarà al sole e l'altro all'ombra e poi viceversa si scambiano quindi dato che le stagioni si sentono parete dell'angolo qua siamo a 97 gradi si sentono si sentono tanto le stagioni e quindi i sbagliamenti di temperatura comunque non sono così forti perché è uno dei giganti ghiacciati quindi sta tra i meno 220 gradi e i meno 205 e dopo Saturno quindi si trova a 19 unità astronomiche unità astronomiche sono 150 milioni di chilometri e ruota sui stessi sopra abbastanza velocemente cioè un giorno anche se un giorno è molto storto dura 17 ore terrestri questo e insieme al fatto che sia ruotato potrebbe essere spiegato con un possibile impatto da un un esopianeta un pietavagabondo a piccata curiosità i pianeti erano l'unica cosa che se tuoi guardi del cielo di notte in notte si muovono quindi sembrano stelle ma si muovono i greci le chiamavano stelle vagabonde cioè planetes asferes e poi sono nati i pianeti perché da stelle vagabonde sono diventati i pianeti ok gigante ghiacciato contiene acqua sì certo piove acqua no piove ammoniaca i poli magnetici non si trovano nei poli quelli dell'asse ma sono praticamente sull'equatore il campo nitico non si crea dal nucleo è una roba strana ha gli anelli come vedete non la foto ma dalla ricostruzione ha 13 fasce di anelle che inizialmente volevo chiamarle alfa, beta, gamma poi hanno visto che la prima in realtà ce n'è un'altra quindi l'hanno chiamata z ma poi ce n'è un'altra in mezzo e altri tre in mezzo quindi hai deciso di fare z 6, 5, 4 e poi alfa, beta eta gamma, delta lambda, epsilon nu e mu satelliti naturali ne hanno un bel po' ne hanno 27 e la cosa interessante è che i nomi dei satelliti non sono presi da mitologia basta le abbiamo eserite tutte quelle del mondo ma sono presi in parte dai personaggi delle opere di shakespeare il suo simbolo è questa cosa qua di per sé soltanto il cerchietto col pallino al centro è il sole perché è il sole perché è una raffigurazione schematica del sole al centro e un sistema solale che io abito intorno qua hanno messo insieme in verticale il sole più marte è rotata in verticale no, forse quindi carica stotto in realtà dato che fu scoperto nel 1781 da William Herschel c'è anche il simbolo di Herschel che però è la sua è la sua sigla la faccio vedere ok era fatta così aveva lui poi come sempre ci vuole una piccola proge lui simmetrico e poi qua questo era il simbolo di William Herschel dato che la scoperta la deciso di metterla anche come simbolo Durano che poi per l'altro era un pallino così è lui